Il Frosinone ha iniziato ufficialmente la terza fase della preparazione al campionato, la più importante dal momento che è quella di avvicinamento alla prima giornata di campionato di Serie A, quando i Canarini affronteranno l'Atalanta il prossimo 20 agosto. Moreno Longo, dopo la breve sosta concessa alla squadra, si troverà di fronte, oltre ai giocatori che ha condotto in tournée, con la sola eccezione di Mauro Vigorito, anche il settimo neo-canarino, e cioè Emil Alfredson. Anche Niccolò Brighenti ci sarà, poi che è tornato ad allenarsi ad inizio settimana, insieme a Russo, Citro e Conè, che non faranno però parte della rosa di giocatori che affronterà di nuovo la massima serie. Ed è una rosa ancora molto folta e da limare. Hanno iniziato la terza fase della preparazione i due portieri, Bardi e Sportiello, i cinque difensori a Riaudo, Brighenti, Goldaniga, Krainch e Terranova, i quattro esterni Matteo Ciofani, Beghetto, Molinaro e Ghiglione, gli otto centrocampisti, Besea, Cibsa, Crisetig, Alfredson Maiello, Matarese, San Marco, Soddimo e i quattro attaccanti, Ciano, Ciofani, Dionisi e Perizza. In tutto 23 pedine, alcune delle quali saranno cedute, mentre tre sono gli under 22. Manca ancora poco più di una settimana al termine che il presidente Maurizio Stirpi ha fissato per il completamento della campagna di potenziamento della formazione da affidare nelle mani di Moreno Longo. Va a coincidere con il 12 agosto prossimo quando il Frosinone farà il suo debutto stagionale al Benito Stirpi contro il Real Betis Siviglia. E mancano ancora cinque pedine per arrivare alle 12 che il patron dei Canarini ha indicato nei giorni successivi alla vittoria sul Parermo nella finale di ritorno dei play-off. Per quanto riguarda il mercato, invece, non si sa ancora se arriverà o meno Danilo Dall'Udinese. Il brasiliano si sarebbe dichiarato disposto ad accettare la richiesta del Frosinone, a patto che gli venga confermato per i prossimi due anni lo stesso trattamento che ha con la società friulana. Ma sul giocatore sono piombati anche Chievo e Cagliari. Piace anche Cerci, l'esterno offensivo classe 1987, riporta la Gazzetta dello Sport, è in trattativa con il neopromosso Frosinone, ma non ha ancora trovato l'accordo sull'ingaggio. Mancherebbe però ancora una pedina nel ruolo di mezzala destra e si sta sempre aspettando che si sblocchi la trattativa che tutti danno per conclusa e che riguarda l'olandese di 23 anni, Ray Bloé. Per chiudere il cerchio degli acquisti mancherebbero ancora un portiere da aggiungere a Marco Sportiello e a Francesco Bardi ed un altro attaccante. Grazie a tutti.